lettura del commento all'evangelo di don luigi maria epicoco di giovedì 12 gennaio 2023 allora venne a lui un lebroso lo supplicava in ginocchio e gli diceva se vuoi puoi guarirmi le preghiere migliori sono quelle che nascono dal cuore e vanno al dunque è forse questo il motivo per cui nella storia degli ultimi secoli i cristiani hanno sempre scoperto e valorizzato le gioculatorie essi altro non sono che preghiere brevi ripetute semplici chiare essenziali esattamente come la gioculatoria dell'ebroso del vangelo di oggi sarebbe bello se ognuno di noi scoprisse la propria gioculatoria cioè scoprisse quella preghiera che ha il potere nella sua brevità di dire ciò che veramente ci sta a cuore mosso con passione stese la mano lo toccò gli disse lo voglio guarisci subito la lebra scomparve e degli guarì sembra che gesù non possa resistere davanti a tanta sincerità e fiducia ma la cosa davvero strana è che la reazione del lebroso è di totale disobbedienza nei confronti di gesù che lo ha guarito e ammonendolo severamente lo rimandò e gli disse guarda di non dire niente a nessuno ma va presente te sacerdote e offri per la tua purificazione quello che mose ha ordinato a testimonianza per loro ma quegli allontanatosi cominciò a proclamare e a divulgare il fatto al punto che gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città ma se ne stava fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte è bello poter pensare che la vera evangelizzazione è l'impossibilità a poter tenere per sé la gioia che il signore ci ha procurato nella vita e anche se fosse gesù stesso a chiederci di non dirlo sarebbe per noi impossibile ubbiedergli tutto ciò capovolge l'idea di annuncio stesso esso non nasce infatti dalla pianificazione di una campagna pubblicitaria ma da un irresistibile bisogno di raccontare a tutti quello che il signore ha fatto dentro la nostra vita e questo tipo di annuncio è così efficace che il seguito stesso di gesù cresce a tal punto che per lui non c'è più nessuna possibilità di stare in un luogo chiuso buona riflessione e buona giornata grazie a tutti